Il futuro industriale ed economico delle aziende della provincia di Frosinone a forte rischio, complice l'iter, giudicato troppo lento, delle autorizzazioni ambientali, a lanciare l'allarme in conferenza stampa ai sindacati ed il segretario generale della Femca Cisle di Frosinone, Antonella Valeriani. Oggi abbiamo inteso fare questa conferenza stampa come organizzazioni dei chimici proprio per lanciare un allarme sulla situazione degli investimenti che riguardano un po' le nostre aziende. Un settore di eccellenza dove però l'iter burocratico autorizzativo rallenta molto quello che possono essere gli investimenti attuali ma anche quelli futuri. Abbiamo chiesto un incontro al prefetto che avremo il giorno 20 e a sua eccellenza rappresenteremo proprio questa situazione. La provincia di Frosinone ha bisogno di una nuova politica industriale così come le imprese necessitano di investimenti e maggiori certezze. Occorre riaprire immediatamente un tavolo quindi mettendo al centro queste situazioni, coordinare i lavori anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia e dare certezza alle imprese, certezza dei tempi, certezza per i nuovi investimenti e anche quelli attuali. Stiamo parlando di aziende di un settore di eccellenza che fanno innovazione ma che fanno anche una occupazione di qualità e allora noi oggi questo segnaleremo al prefetto e saremo al fianco dei lavoratori perché sicuramente è un'opportunità del nostro territorio che ha una storia nel manifatturiero, ha un'importanza strategica in questo settore e daremo il nostro contributo affinché possa tornare ad essere questo territorio terra favorevole per tutti gli investimenti.